Miam miam, buono questo incudine Ma Nick, non si leccano gli incudini, ti pare? Se tu vedi questo è un incudine Via, cattivo, cattivo, via, via, via Ma come non si leccano? Prima di tutto il mio incudine, quindi che schifo, primo Secondo, fai schifo perché non si leccano gli incudini Terzo, guarda che dovresti renderti conto che non si lecca tutto Nick Tu sei sempre abituato a leccare qualsiasi tipo di cosa Invece non si lecca tutto, devi leccare poco o niente Il cono gelato per esempio è buono da leccare Altre cose, no, la crafting table non si lecca Ma come no? È buono invenno Se tu lecchi la torcia, cioè no, non si fa Cioè per esempio fai, adesso probabilmente urli se lecchi la torcia Quindi non lo fare No, 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 lo farò quello Ok, bene, adesso però ragazzi dobbiamo fare lo scherzo a Gabri E voi direte ma chi caspita è sto Gabri? Come non lo sapete? Un nostro vecchio amico di vecchia data Vecchio amico di vecchia data Cioè un amico di vecchia data, vabbè avete capito insomma Un amico al quale adesso faremo lo scherzo sul vanilla Il nostro nuovo vanilla bellissimo Che a tutti quanti piace chiaramente Perché a me piace molto A voi piace il vanilla nuovo? E ovviamente vi ricordo che noi in live faremo il vanilla nuovo Quindi in live sul canale viola ovviamente Dove intanto stiamo cercando Gabri comunque In live sul canale viola ogni giorno alle 15 alle 17 a parte il sabato e la domenica Venite perché sarà strepitoso, bellissimo C'erranno un sacco di belle cose E tante avventure bellissime Sarà bellissimo È sempre bellissimo Ogni volta secondo me È bellissimo, è bellissimo Però io direi caro Nick di tipparci da Gabri Ok, ok, adesso arrivo No, 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 no Non hai capito niente di come si parla Non devi ripetermi le stesse cose due volte Primo E secondo Io ho mangiato davanti E secondo Devi stare sveglio Nick Sveglio Stai sveglio Perché mi sembri addormentato Hai fatto ok, ok Non si fa Ok, ok Cos'è? Sei depresso? No Devo chiamare lo psichiatra così ti fa Ti prescrive una cura? No, no, tranquillo Ok, bene Quindi dato che non sei depresso Puoi essere felice Bene Adesso caro Caro Gasto Sto per dire caro Gabri Ma no, non c'entra niente Proprio Gabri Ma cosa sta facendo secondo te? Ma è impazzito Ma non lo so Sta piacendo bollacchi a caso Allora, questi sono i nuovi blocchi della 117 Come vedete Però Si sta piazzando Ma fa Ah, perché mi sa che vuole farla a casa Vedi che si è messo pure l'impostazione Si fa la casa Quindi io direi che è ottimo Perché siamo arrivati proprio nel momento Più perfetto Per fare questo genere di scherzi Perché appunto potremmo iniziare Ad aprirgli le ceste Adesso lui dirà Oh mio Dio Ma cosa starà succedendo? E tipo io inizio a rompergli i blocchi un po' in giro Tipo Io rompo questo Che cosa strana Dirà E vedi si è spaventato tutto quanto così Ma Perché anche io mi spaventerei tantissimo Ma cosa è il mio partito? Mi sono partiti Non riesco più a fermarmi di parlare E Nick Tu Cosa stai facendo in questo momento? Dimmi Eh li sto rompendo dei blocchi davanti Oh porca puzzarda Vai vai rompiamo gli blocchi Io Io distruggo i blocchi Lui li piazza e io li distruggo Eh no Probabilmente adesso dice Ma cosa sta succedendo qua? Ok l'ha ripiazzato Non so se sta sospettando Ma secondo voi sta sospettando? Perché secondo me no E poi comunque secondo me È anche un momento perfetto Per vedere se lui si comporta ancora in modo strano Perché voi sapete Dalle scorse vanille Che lui a volte Si comportava in modo molto strano Perché? Cosa faceva? Faceva Si trasformava in Ender Dragon Si trasformava in Wither Si trasformava nel Lama Non so se vi ricordate del Dio Lama Se c'eravate scrivete Io c'ero hashtag Quando io facevo quelle robe E Gabri adesso è praticamente così Vedi bravo Nick L'hai spaventato Però non si è fatto più di due domande Cioè Dulis Gabri? Sì Gabri Eh sì ciao Ciao Succedono cose Però boh non lo so Cioè Ma cosa intendi scusa? Succedono cose strane Cioè vabbè io ho ricordi passati Cioè di cose Però Non lo so Eh sai che potrebbe essere Ma non lo so Perché Lo so è vero Hai ragione Anche io ricordo i passati Infatti sto pensando un po' di tempo fa Se magari stava succedendo qualcosa Anche qua in questo mondo vanillale Ho notato anch'io qualcosa di strano Eh Tipo A volte mi è sembrato che una cassa si aprisse E si chiudesse Però Cioè abbiamo già iniziato sto mondo E già succedono cose Cioè Eh ma no Ma infatti Veramente è sempre un casino Ogni volta Minecraft Poi soprattutto a noi Sempre maledetto Ogni volta Eh si lo so Eh vabbè Eh non lo so Vediamo un attimo Eh ma perché a te cos'è che sta succedendo? Eh qualcuno mi sta picchiando No dai Per favore Delle casse si aprono da sole Eh le casse mannare Mannaggia Ah c'è un diamante Bello Eh Vabbè Ma scusa hai rubato un diamante No l'ho rimesso a posto Ah ok No perché Vabbè sai Vabbè fai quello che vuoi Rubai diamanti No 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 Esatto Allora vabbè niente Mi sembra che era di Nick forse Non lo so Vabbè lo lascio lì C'è un letto verde vicino Eh mi sembra di sì Allora è mio Allora è mio Eh lo poso Lo poso Vabbè comunque io sto iniziando a costruire la mia nuova casa Oh bello sarò molto felice di vederlo appena Ma qualcuno mi ha distrutto Cosa cosa che ti ha distrutto Mettando picchiando Ma mia che rottura di coglio Sè proprio Pappole ma basta Ma noi stiamo scavando in miniera Ma non me ne frega se ti rompono i blocchi No sto scherzando In realtà dobbiamo Vedere bene e meglio in questa storia Perché secondo me C'è qualcosa di strano in questo mondo Io me lo sento Beh Vabbè vado Ciao 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 Non so comunque è proprio strano comunque Gabri Cioè nel senso se vuoi Sì ma esatto Boh è scioccante Scioccante praticamente No sto scherzando Però devo dire che si sta comportando in modo Cioè nel senso Ma se non è normale stranamente Eh sì ma non sta nemmeno sospettando di noi Il che è buono Perché per lo scherzo va benissimo Che lui non sospetta di noi È perfetta questa cosa Ci viene proprio Ci calza proprio a pennello Perché se lui tipo pensa che magari è Tipo Vi ricordate C'erano altre strane entità Nello scorso vanilla Nello scorso vanilla davvero C'era un'entità Quindi in questo vanilla È anche plausibile Che magari ci sia qualcosa Secondo me In questo vanilla Non c'è niente Però anche perché Stavolta siamo noi Che stiamo facendo cose Però Non lo so Ma guardatelo Ma cosa Scusa ma tu Nick Stavi facendo un pisello No no Nick non ti vergogni Di te stesso No no Io Io amici così Ma si vede un pane volante Nascondilo No non è vero Io non vedo nessun pane volante Sei te che vedi cose c'è Ma dove è Gabriel Mi sei andato Ma veramente Ma è andato via Non lo so Comunque mi stavano per venire Per venire un ruttino Ma non lo faccio Perché sono educato Ma no Porcellino che sei Porcellino che sei Ma che caspita stai disegnando Che porcellino Ma poi sembrava che ci stai Vabbè Sei il terzo porcellino Anzi il quarto porcellino sei Parla forte Idiota Ah mi sto parlando Pardon Don scusa Ehm 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 Però ora mi sfogherò su Gabri Perché Vai vai Ma dai ma è una gazzaladra Non riesco a fermarlo Una gazzaladra Guarda la gazzaladra La gazzaladra Sì quanto cacchio dori No ma vera No no Ma lui è della chat Lui è della chat No non è neve Ti prego dimmi che non la vede Ti prego dimmi Sì la vede Ho infinto l'effetto della pozione Oh no Oh no Adesso mi sa che viene Mi sono pozionata Eh Dunice Dove Sono morto Da solo Da solo? Da solo? Come sei morto Gabri? Eh sì No Mi spiace Perché E io ora sono lontano Ah Capisco Capisco Beh mi dispiace Ma questa cosa Mi fa ridere Che tu sia morto Non so perché Esatto Eh io però Come faccio a tornare adesso Cavoli tuoi Ti arrangi Esatto Ciao Ti sposto Ciao Ok perfetto Adesso Nico Ho un'idea Adesso lo tipo in aria Così io mi vado in creativa Praticamente quello tipo in aria Così lui pensa che tipo È stato tippato da qualche strana entità Ah no però No no L'invisibilità Stai attento all'invisibilità Panic Era in quello che me la sono già fatta Di nuovo Ok ok adesso lo tipo così dirà Tipo Oh ma non sono stato tippato da dunis Ma è deficiente Ho fatto un altro pisellino io intanto Ok stai concentrato tu Mannaggia te che stai parlando di altre cose Ma cosa me ne frega che hai fatto il pisellino Idiota È in casa sua È un abbrimento E poi ti ripeto Se io non parlo devi parlare tu Quando io non parlo devi parlare tu Subito È un abbrimenti cosa parlo Ma di quello che sto parlando io deficiente Oppure mannaggia te alle scrofe Ma veramente Ok Allora Cos'è che posso mettere come musichetta Mettiamo questa Vi chiedo scusa ragazzi Se vi siete Ma smette di fare piselli tu Ecco l'hai ucciso di nuovo Ma non ti vergogni di te stesso Ma veramente No Per niente E dovresti Dovrei Basta Devi andare in gattabuia Allora prima di tutto Vediamo un attimo Che immunità Ok perfetto Allora No Allora facciamo slash effect clear Prima di tutto No Così diciamo a Gabri Che No non che sei stato tu Ma non gli diciamo niente Ok Gabri Perché pensa che adesso Allora aspetta un attimo Allora Gabri ciao È Dunis Ciao Gabri Allora praticamente Eh sì salve ciao Si è comportato in modo strano Cioè no in modo strano In modo molto cattivo Perché ha fatto Mentre tu non c'eri questi pisellini Che tu vedi qua Ma ho notato che Nick mi ha ammazzato C'è scritto C'è scritto davvero che Nick ti ha ammazzato Ma porca mia Che stro C'è veramente Ma è un deficiente Ma come si permette Ma ecco Come si permette Tutto meritato Quindi adesso io direi di andare a torturarlo Nella tortura delle torture No 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 Dov'è la tortura Delle torture Eh da questa pa Vieni amico mio Amici miei Ma le cose che faccio Devono essere usate contro di me Sì e poi tu Guarda che sei ancora invisibile Ma perché sei invisibile Nick? Eh non lo so No ma hai capito C'è veramente Io scioccato Non sapevo di questa cosa Ma cioè Io ho scioccato Ma Nick Ma come ti permetti Ma io pensavo Che tu stessi scavando Perché avevano fatto la sfida Di scavaggio Su in miniera E tu non hai detto Che non hai trovato niente Ma perché stavi andando A controllare Gabri Ma sei deficiente Ma ecco Ma io non ho più I miei blocchi Che avevo prima Eh forse perché L'ha presi Ho fatto la persona cattiva Venite nella sala Della tortura E deficienti Arriviamo Arrivo Nick hai dato la possibilità Di andare No Aia Vieni vieni con me Vieni con me Vieni forza forza Che adesso Adesso la sala Delle torture Riderà e sorride Ma si è messa Una pozione di invisibilità Togliti la pozione Di invisibilità E vieni immediatamente A premiti la mia furia La furia mia Si abbatterà Sulla tua testa Finché tu Non implorerai Pietà o creatura del male Vieni No Ammazziamolo No Allora Allora prima di tutto Vieni qua Primo Secondo Non ti permettere mai più Di picchiarmi Quando io sono così arrabbiato Perché sennò poi dopo Mi salgono i Ancora più arrabbiato I 5 minuti I 5 minuti 24 però Minuti Perché durano un po' Cosa è questo posto? Eh la sala di tortura Che peraltro Ha fatto lui Allora vieni qua No Torturiamoci Come ti torturo Vediamo un attimo Come posso Vediamo Torturiamo qui La TNT La TNT No Facciamo il magma block Prima di tutto Vai Vai Ah muori Stupido Ti ho messo la fazione Dove No non mi dire È morto? No è qui Ho visto le particelle Cosa schifo No 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 Questa cosa è Deve essere Deve essere punita Dove È lì dietro Ma deve essere punita Se veramente Io non capisco come Ci possa essere così tanta Come si dice Così tanta Insolenza In queste persone Di oggi Che non rispettano Il proprio re Ecco esatto Non Devi rispettare il re Brutto figo E tifoso Esatto Mi prendo la roba di Nick Esatto E la bruciamo Non usare No non usate Poi quanta roba era E un po' Guardi Non da niente Esatto Boh Veramente Io Se fossi in te Guarda Anzi Adesso ti metto in prigione Perché non No Si se lo merita Si è verita Solo quello Forza forza Vieni vieni Perché il re Non ci vengo Sì sì Vieni vieni No Ricattivo Se ne sta andando Scappo in Messico